Scusi, posso fare una foto al suo cane? Sì, certo. Come si chiama? Leopoldo. Quanti anni ha? 8 mesi. Qual è la sua indole e carattere? Molto appiccioso e giocoso. Mamma mia zampa, ehi, abbraccia anche. Abbraccia. È vero che abbracci. Adesso è un po' aggirato. Beh, lui parla tanto con le zampe. Ti chiama!